Un ringraziamento alla security Gunnar, Francone e buonasera tesoro. Arci di buonasera a tutti Sender, Nikonoff Beach Party, la domenica con i controcoglioni della Nord Italia e solo Sender. Buonasera a tutti Inter Molinari. Arci di buonasera a tutti i controcoglioni della Nord Italia e solo Sender. Silvia Lanza dei Treviso! 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 Silvia Lanza dei Trevisan readyi cui f Platone di treviso. Silvia Lanza dei Treviso! Grazie a tutti.